Diciamo, io provavo a mettere l'accento sulle cose che secondo me sono un piccolo passo in avanti, poi non saranno perfettibili, saranno più propaganda che sostanza, però secondo me delle cose ci sono. Dopodiché mi sono chiesta però, e quindi lo chiedo a lei che me lo saprà spiegare, che cosa c'entra dentro il decreto flussi la stretta sulle ONG? Così per capire proprio anche lì la questione del metodo. L'obiettivo del governo di questa maggioranza è quello di impedire gli arrivi irregolari, impedire che le persone per venire in Italia debbano affidarsi ai mercanti di esseri umani e agli scafisti e impedire in questo modo che chi arriva qui poi diventi vittima di sfruttamento, è quello che sappiamo. La sinistra quando ha governato gli ha fatto arrivare tutti, poi vediamo la situazione in cui dobbiamo vivere nelle nostre città. Veramente sta arrivando Minniti e quando c'era Minniti ha iniziato ciò che poi Salvini ha continuato, ha invertito diciamo. Minniti è stato ampiamente emarginato, è stato emarginato e penalizzato proprio sullo stesso partito. E quindi se mi consente il collega Zan, che non voglio interrompere ma mi pareva che adesso la parola ce l'avessi io, voglio dire che noi vogliamo impedire gli arrivi irregolari e facilitare nel modo più assoluto gli arrivi regolari. 452 mila nuovi lavoratori stranieri in Italia in tre anni sono pochi. Beh, quando c'era la sinistra i flussi erano zero. Posso dire che un'altra. Cioè erano zero, mi consente. E quindi io credo che la vera domanda che dovremmo farci e su cui mi piacerebbe conoscere il parere anche del collega è come sia possibile che di 80 mila lavoratori fatti arrivare in campagna ne siano stati assunti veramente soltanto il 2,7%. Ma gli altri 77 mila dove sono in questo momento, chi stanno alimentando, cosa stanno facendo, questa è la vera domanda. Noi vogliamo impedire che questo succeda. Abbiamo semplificato. E poi voglio dire che non è vero. Ma dovete fare anche i controlli. Non è vero, mi perdono. Certo, certo che dobbiamo fare i controlli. Dovete fare anche i controlli per evitare che ci siano i venditori furbacchioni. Chi se ne è dovuto accorgere di quello che succedeva in campagna? Ce ne siamo dovuti accorgere noi, ma da quanti anni succedeva? Ce ne siamo accorti noi però. Quindi vuol dire che i controlli li abbiamo fatti. Poi, attenzione, perché noi abbiamo aperto una autostrada per le aziende che vanno a formare i lavoratori nei paesi di origine e quelli sono extra quota, quelli che vengono perché formati nel paese di origine. Abbiamo inserito una norma molto importante che il lavoratore stagionale che è in Italia può rimanere se trova un nuovo lavoro e si può convertire il contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Quindi stiamo facendo molto faticosamente per regolarizzare una situazione per una maggiore. Diciamo, ci sono delle cose di cui io capisco la razza, aspetti, aspetti Zanno, un attimo soltanto. Ci sono delle cose di cui io capisco la razza e ce ne sono altre di cui non capisco la razza, perché anche dopo che il senatore Balboni ci ha spiegato tutto quello che c'è nel decreto, io continuo a non capire che c'entrano le ANG. Ma adesso poi ritorno da Balboni, poi ritorno da lei. Dopodiché non sono un pull factor, non è mai stato dimostrato e quindi diciamo, voi lo potete raccontare, però non è un dato, cioè non c'è nessuna evidenza di questo. Dopodiché, Tiziana arrivo da te, tra le varie cose che leggiamo c'è il telefonino. Alessio spiegaci che cos'è questa storia del telefonino. Il decreto prevede che per le persone soccorse in mare o fermate nella frontiera, chi ha un telefonino tra le proprie disponibilità deve contribuire all'identificazione mostrando il telefono. C'è un piccolo problema, però mica tanto piccolo, legato alla privacy che è stato sollevato anche dal Ministro della Giustizia ad Ordi una settimana fa e aggiunto soltanto ieri. Non si potrà accedere alla posta, non si potrà accedere al WhatsApp, che è il sistema di messaggistica, non si potrà accedere ai social della persona a cui verrà chiesto di mostrare il telefonino. Aspetta un attimo perché Salvini su questo si era espresso, sui telefonini. Aspetta un attimo per il video.